Qualche tempo fa Carlo Parisi mi chiedeva perché si tende a non insegnare più la pianta ovvero la seduta in guardia con il peso arretrato come si usava nel diciassettesimo e soprattutto nel diciottesimo secolo. In realtà lo si fa ancora ma per accorgersene bisogna osservare i dettagli. Analizziamo questa immagine tratta dall'Ecole des Arm di Angelo Malevolti pubblicato a Londra nel 1765 e la sua spiegazione testuale. Per acquistare questa posizione il ginocchio sinistro deve essere piegato e a due piedi di distanza dal destro, il tallone sinistro in linea dritta con il destro e la punta del piede perpendicolare al ginocchio. Bisogna osservare che la flessione sul lato sinistro non deve pregiudicare la comodità del portamento del corpo e per essere ben stabile bisogna piegare un po' il ginocchio destro, non troppo perché se troppo piegato il corpo cadrà in avanti, se troppo poco la coscia e la gamba non saranno flessibili e di conseguenza non ci sarà sufficiente elasticità né forza per l'affondo né agilità per avanzare o retrocedere. Osserviamo che la seduta in guardia è sì con il peso scaricato sul piede posteriore ma anche il busto è fortemente sbilanciato all'indietro nonostante il testo dica che lo sbilanciamento sul lato sinistro non deve pregiudicare la comodità della posizione. Andiamo avanti di un secolo e mezzo e vediamo cosa ci racconta il maestro Luigi Barbasetti nel suo trattato sulla scherma di spada del 1902. Si avrà una conveniente posizione di guardia quando il ginocchio sinistro sarà a piombo sulla rispettiva punta del piede, il ginocchio destro a piombo sul calcagno, le gambe piegate con un angolo di 120 gradi al ginocchio, il busto un po' inclinato innanzi, le spalle sulla medesima linea orizzontale della spada, il peso del corpo piuttosto gravante sulla gamba sinistra in modo che la destra possa agevolmente muoversi nell'avanzare o andare a fondo, le reni arcuate, spalle e ventre indietro, il corpo in profilo. La maggior parte degli insegnanti sostengono che il peso del corpo debba ugualmente essere ripartito sulle due gambe. In pratica io ritengo dannosa questa prescrizione poiché nelle avanzate del piede è necessario avere per quanto possibile libera la gamba che deve eseguirle. Se la gamba ha un peso soverchio da sostenere, prima di eseguire l'affondo o il passo avanti, dovrà respingere questo peso segnando un movimento preventivo che oltre a ritardare l'avanzata metterà sull'avviso l'avversario. Osserviamo che pur prescrivendo il peso sul piede arretrato, non per difesa ma per meglio far scattare l'affondo in fase offensiva, il busto di Barbasetti è leggermente inclinato in avanti, realizzando un assetto più equilibrato rispetto alla guardia del malevolti e molto più vicino all'uguale ripartizione del peso su entrambi i piedi. Osserviamo la guardia di un campione di scherma di oggi, lo sciabolatore coreano Sangook Oh. Il peso è evidentemente scaricato sul piede posteriore ma il busto è ancora più eretto rispetto alla posizione di Barbasetti per un evidente scopo difensivo. Si noti la progressione dell'atleta sensibilmente arretrato con le spalle in costante caricamento del piede posteriore ma anche il suo contenuto sbilanciamento in avanti con il busto in fase di affondo. Spero di aver risposto in maniera esauriente alla domanda e mi permetto una riflessione. La scherma è come il diavolo, sta nei dettagli e per capirla è necessario praticarla e per capire un maestro è necessario parlarci e frequentare le sue lezioni. Purtroppo leggere o un maestro guardare le figure non è sufficiente. Buona pratica a tutti.